andiamo avanti con un altro premio vediamo 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 dove sta dove sta dove sta vediamo ma paparaca non c'è sta no non c'è sta no non c'è sta c'è sta ed il premio qual è il premio vedilo un attimo allora il premio importante è il premio che noi daremo a luca maris e per amore grazie io ero posso dire una cosa personale l'abbiamo detto già in conferenza erano due anni che non mi esibivo pubblicamente per una grave malattia ero emozionato quando mi sono esibito sabato era come la prima volta quindi per me questa è una rinascita sia la partecipazione al festival le grazie dell'invito bravo e questo premio grazie di cuore che mi date una carica in più per ricominciare e ricomincia perché ha scritto una bellissima canzone luca maris